Antonio Conte mi ha comunicato che al termine del campionato europeo valuterà, la sua esperienza finirà, sente il richiamo del campo, la quotidianità dell'allenamento e questo è comprensibile. Abbiamo appuntato sempre su Antonio Conte, mi sento quasi quotidianamente, credo che prenderemo le valutazioni con serenità e con nessuna, la cantera o non la cantera la valuteremo dopo, questo non è il momento di valutarlo. È il momento di prendere atto e di avere a che fare con una persona che ha dato un recupero della figura e dell'immagine della nazionale, dell'impegno e del sacrificio e io lo ringrazierò sempre per questo. I destini della vita cambiano, l'Europa è piena di queste grandi meteore, va bene così.